il primo team dai ti ho preso così in contropiede dai facciamoli insieme abbiamo Martina Frosini e Eiko Bob al primo match del Mixed Pair ok Martina e Eiko qua sulla pudana siete pronti ragazzi ok? musica grazie a tutti 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 Perfetta, Martina, bloccato subito il suo lancio, erano Martina Frosini, dico bene, e Aiko Voigt, il primo team di questa finalissima...